Buongiorno ragazzi, io sono Giovanni e benvenuti in un nuovo PLANT VOLT Oggi siamo in un nuovo video di PLANT VOLT ZOMBIES CHU Nuo primo RUN Andate a cagare stupidi zombie Andate a cagare Attaccano anche in piscina Eccoci qua Abbiamo dei nuovi obiettivi Oh, tagliata, sconfinci l'ultimo zombie di un livello usando una tossera Immobilizza 20 zombie grandi con solo l'imporcino Zombie grandi? Quali zombie grandi però? Che dici? Completa il livello usando solo le piante esplosive per uccidere i zombie Ok, oggi sarà un livello in cui completeremo gli obiettivi Niente funghi tra noi Completa un livello notturno senza piantare alcun fungo Eh, facciamo video con Sud Nessun fungo ha detto Va bene ragazzi? Sto usando le cuffie dell'area 51 Con il disegno dell'area 51 sto usando Per chi non sa che il 20 settembre ci sarà l'invasione Ma perchè non li lasciate in pace con i poveri militari? Non ho fatto qualcosa di male No, no, non ho fatto niente sicuramente Allora l'obiettivo era completare un livello senza alcun fungo Va bene? Allora metto questo Patate non è un fungo vero la patata? Le ciglia ce ne sono un fungo Sicuramente mi compro questo Anzi la pianta carniburo Si, questo è Aspetta Avvertenza, questo livello sarà estremamente difficile senza malporgini Conferma di voler continuare? Si Perchè ho provato si Perchè ho fatto sta missione Mi pento già Mi pento già di aver fatto la missione Non è molto difficile Già mi hanno dato un sole Solo che non cadono soli Quindi se devo aspettare ancora di più tempo Fate dei soli ti prego I soli sono la mia unica speranza Ti prego Continua Bravo Grazie Intanto dobbiamo mettere subito alla scossa un tuber esplosivo Subito dobbiamo mettere un tuber esplosivo Un tuber esplosivo Ti prego Ti prego Aspetta Fai nascere il fungo Ti prego Fai nascere il tuber Vai nascere il tuber Vai nascere il tuber Ti prego Fai nascere il tuber Nooo tuberoooooo Vai Si All'ultimo Stavo sudando All'ultimo Meno male Si ma ora devo completare il resto del livello Senza manco un fungo Non sapevo che fosse così difficile Vabbè mi tocca ragazzi Ormai l'ho deciso E con l'altro sole abbiamo la prima spara semi Troppo tardi Addio No abbiamo già perso Chi scommette che abbiamo già perso Anzi la mano Scommessa accettata Invece no Ci salva sempre lo scudo patata Lo scudo patata è uno dei fondamentali migliori per essere protetti dagli zombie Ci provare Abbiamo già perso Tutta la vita Abbiamo perso Abbiamo perso Tutta la vita Abbiamo perso tutta la vita Nooo Nooo Ho ancora tante cose da fare nella vita Vi prego zombie Risparmiatemi Risparmiatemi Fai nascere il tuberoooooo Perso Nooo Già perdiamo il primo girasole Li facciamo Li facciamo tutta la vita Li facciamo E scommette che quel livello non si poteva fare su youtube Completa la modalità verdura Ah no Quello non possiamo fare Zombie Nator Spazza via dieci zombie grandi Con una sola Cicchiecia Esplosiva Morticoltore Consiona tutte le 49 piante Incluso in vendita nel negozio di dame e pazzo No grazie Niente semi in piscina Questo lo possiamo fare Aspetta cosa? Completa un livello di urdo nella piscina senza fare alcun tipo di spara semi Ehm ok Ehm ma come faccio? Allora dobbiamo vedere se abbiamo abbastanza Ripartiamo dal livello 1 Se Se Tupple Questo Questo Il vostro impolvere Schiaccia cinque zombie con solo schiacciaggiommi Ah Che Il simbolo del Il simbolo di questa partita Uuuuuh Parte Uiiiihihi Oh mio dio ma calma musica Ah Voi non la sentite perchè sono in cuffie Ma a me E' esageratamente alta Ora la basso un poco Troppo alta 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 Forse vabbè mi sentite veloce perchè ho le cuffie con quelle cose che si mette vicino alla bocca Credo che mi sentite grande ma credo neanche di no Vabbè comunque Sto qui di zombie non riuscirete devo fare un obiettivo quindi vi dovete far schiacciare da quello Ehm Non mettiamo tutti i zombie PUSH 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 BASTA Ok mi è capitato Vai mettetevi Fate più soli Solo il cielo mi sta aiutando Ma solo il cielo mi sta aiutando Ah stupido Il girasoli non servita a niente Adesso vi vedo Vi vedo un macellaio Anzi vi vedo un distruggione di girasoli Anche se non so cosa significa I zombie buttandoli calma nonnina C'è la mia patata qua Così mettiamo 5 zombie arrivano là E così potremmo fare la nostra cosa con lo Schiaccia zombie Ehm mi sa che i zombie si faranno un po' male scusate zombie è colpa mia Morite stupidi zombie cornuti con le corda Con solo cordo che siete di corno Non è possibile Ha sconfitto la mia spara semi Devo bloccarli Non ci crede ha sconfitto la mia spara semi Come si permettono di sconfiggere No la mia spara semi non la sconfiggere nessuna Cisella si chiamava Andiamo alla prima onda Così magari in cielo facciamo la cosa No è vero Deve schiacciare 5 zombie Che sta facendo un zombie balla mentre è morto Oh no Vai Morite Ehm siiii Ci sono pochissimi zombie Ehm Perchè sono pochissimi Io volevo un altro zombie in più E' rimasto solo lo zombie secchione Il più forte è rimasto ovvero lo zombie secchione Togliamo il coso così aspettiamo che arrivano altri zombie E in casa di Vincenzo le mettiamo abbiamo messo un'altra patata Un cegno Sono le cemelle ma non le cemelle ci sono Una si è arrabbiata perchè aveva rotto il cernale e una è morta Oddio la mia occasione di prendere un cosooo Oddio gli zombie mi rovinano sempre le mie coltivature No stavolta non mi farò mangiare via Ah questo è quello che meritate stupidi Stupidi è family friendly lo giuro Eccoci sei abbiamo finito anche questo episodio evviva Farò lo zombie nator Spazzoni gli zombie con una sola Ehm C'è esplosiva Ci posso andare Vediamo questo 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 No questo la costa troppo Questo questo Vabbè vediamo anche questo Questo E questo No 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 c'è esplosiva Stavolta non mi dico me dico questo 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 Ehm Questo Ia Pah Mettiamo un girasole Wiii 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 Abbiamo avuto un girasole perchè di notte non ne facevano manco uno Non mi spiegate Stavate un girasole Sì A parteci Facciamo due missioni Aspetta quella era la tua missione Vero Fai esplodere dieci insomma in esigenza E mettere dieci girasoli in una partita Si era questa la missione Due missioni Passiamoli Uno due tre quattro cinque sei sette Otto Nove E se mettiamo la I calcoli fanno dieci Sì Allora vai fai cresci Nove Dove fanno un altro 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 Aspetta Togliamo questo Togliamo questo Ehm Vai Dovrebbe essere completata O no Un Uno Uno Due Tre Quattro cinque sei sette otto nove Dieci Non lo so se è completata o no Vabbè intanto facciamo la missione Dove fare esplodere dieci zombie Con una Cigencia Esplosiva Boom Vai stupidi Ettore Stupidi insommi Morrete stupidi Oh no Via Scuda patata è sempre uno di noi Sempre ci salva la pelle Oh Meno male Questo mi stava quasi per prendere Vai Vai Dovevo fare esplodere dieci zombie Con una sola Per C'è esplosiva Uno Due tre Cinque Sei sette A sette Devo mettere Cosa Noi No Non avevo fatto abbastanza Non c'erano abbastanza zombie Oh Cos'è sto coso Cos'è sto coso che cammina sotto terra No Voglio mettere No ho sbagliato Fai presto Fai presto Prima che arriva quel coso Fai presto Così quel coso poi Che Vai prenderò Push Sgamato Un altro Ma è una maledizione allora Una maledizione Mori No dai 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 No 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 ci sto mangiando tutte le nostre Verdurine Psh Fuori Ma è una maledizione di zombie Un po' acquistano un altro Ma si Eh vabbè Mi avete rotto però Stavolta avete rotto veramente le Pa Femini friendly Fuori Voila All'ordine Francese Mua Ci sono riguardo Mi sa che Non è veramente Mi metto tutto io Mi metto tutte le parole Eh si Sono stato in silenzio così perché Sono stupido Porta finale Stupidi Morrite Stupidi 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 Morrite Stupidizzate i cani Mia Finito Quiiiiiii Oto della dolce Arga Combo E' una pianta acquatica che trascina non so Bisott'acqua Mmm La immagino nella vita reale Comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale lasciate like e noi ci vediamo in un prossimo video c'è VET Mi Ave Grazie a tutti.